Dopo l'assaggio dell'eccellenza torna il derby in salsa tutta ravennate tra ribelle e Ravenna. Oggi come allora i castiglionesi possano affacciarsi alla stracittadina con i favori del pronostico. Non fosse altro per i sei punti di vantaggio vantati in classifica sui cugini giallorossi. Una ribelle che parte forte, siamo al nono minuto, c'è Lari che allarga sulla destra per Tomassini. Il suo cross non ci arriva per pochissimo Graziani. Andiamo al tredicesimo, sempre in attacco, la ribelle, altra azione sulla sinistra, alla fine spazza Leonardo. Ne nasce però un calcio d'angolo, pallone che viene buttato verso il centro, non ci arriva nessuno, neppure Graziani che si è rabbentato sul secondo palo. Sempre 0-0 dunque tra ribelle e Ravenna. Con la ribelle che però continua a premere c'è Fabri che scarica per Graziani slalom gigante. Il suo destro secco, la risposta di Iglio che deposita il pallone in calcio d'angolo. Andiamo alla ventisettesimo. Si vede anche in Ravenna la sponda per l'inserimento di Ambrogetti. La conclusione è respinta da Calderoni. Con le immagini siamo al venticinquesimo minuto. Il cross dalla sinistra, una respinta questa volta del Ravenna. Altra conclusione, Iglio non è impeccabile. Altro errore della difesa del Ravenna. Poi il diagonale vincente, il gol da parte di Lari. Vantaggio della ribelle al venticinquesimo minuto. Prende così coraggio l'azione dei padroni di casa. Altra percussione centrale, fallo commesso da Zoria ai danni di Lari. Seconda munizione, cartellino rosso dunque per il giocatore della Ravenna che lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. Con le immagini giungiamo così. Nel corso del secondo tempo siamo al secondo minuto. Lo scarico di Bernacci per Graziani. Conclusione che sfiora il palo la sua. Dalla parte opposta il Ravenna, nonostante l'inferiorità numerica, cresce sulla distanza. Qui ci prova. Al quinto, con Ambrogetti, sfiora soltanto il palo. Siamo dalla parte opposta. Bernacci sorprende il portiere. La palla sbatte sulla traversa. Segna Graziani, ma a gioco fermo, anche se il numero 11 della ribelle era partito in posizione regolare. Dunque, fortunato qui il Ravenna che approfitta di questo episodio per pareggiare. Siamo al diciannovesimo minuto. La punizione è di Righini. Il colpo di testa vincente di Mandorlini. Uno a uno tra ribelle e Ravenna. Un Ravenna che così ci prende gusto. Altra punizione di Righini, altro colpo di testa di Mandorlini. Pallo clamoroso. Uno a uno tra ribelle e Ravenna. Ravenna che chiude all'attacco. Siamo al quarantatresimo. Ancora i giallorossi. È entrato anche Battiloro, che lotta su questo pallone. Guadagna una rimessa laterale. Si incarica dell'esecuzione Maini. Ancora per Battiloro. Sempre il numero 20. Cerca il cross. La palla che sbatte sul palo esterno. Poi l'altro cross dalla riga di fondo. Si salva, in questo caso, la difesa della ribelle. È l'ultima emozione di una sfida che si conclude proprio con questo punteggio. Ribelle 1, Ravenna 1. Grazie. Grazie.